ecco il test di recovery sono 10 centesimi intorno a 6 chiodi anche di grandi dimensioni a 20 centimetri questo è il deus ho smanettato ho la reattività più alta ma non provate anche abbassare tx ma non riesce a rilevare in nessun modo i 10 centesimi prendiamo il pirate lo ho messo in tono singolo questo è un tono molto corto ma non strappato tono singolo e 14 kHz soltanto è un test molto difficile perché ho usato anche un chiodo di più di 9 cm e 0,7 di spessore veramente molto grande deus non ce l'ha fatta il pirate quasi diciamo bene ciao a tutti